come riavviare e aggiornare il proprio dispositivo audio non funzionante quindi in descrizione vi ho lasciato due link che vi porteranno sulla pagina per scaricare il dispositivo che è compatibile con il vostro dispositivo audio quindi ragazzi iniziamo prima ad andare su gestione dispositivi gestione dispositivi io ovviamente ho appena collegato qualche dispositivo audio e come potete vedere è collegato ma non funziona o c'è questo triangolo giallo oppure c'è questo pallino con una freccia in giù significa che l'audio ha bisogno di qualche aggiornamento oppure deve essere reinstallato oppure riavviato quindi se faccio su abilità dispositivo come potete vedere in basso a destra si è abilitato il mio dispositivo audio e per sicurezza faccio anche aggiorna driver cerca automaticamente i driver e faccio direttamente tipo cerco driver aggiornati in windows update e vedete se dovete fare qualche aggiornamento su windows update quindi se avete riscontrato questo problema con questo errore qua come l'ho avuto io basta direttamente fare abilità dispositivo oppure aggiorna driver e poi si risolve quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto di guardare le altre guide su come risolvere i problemi sull'audio come in alto a destra usciranno un paio di guide oppure alla fine del video quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi se vi è stato utilissimo vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdervi altri tutorial quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao